Buongiorno, bentrovati. Mattino 6 di martedì 15 settembre 2015, apriamo la nostra consueta rassegna stampa con il Santo del Giorno. In questo caso viene ricordata oggi la Beata Vergine Maria Adolorata. Ogni sguardo dato a lei da Gesù, ogni accento di quel labbro suave mentre sollevava Maria sulle ali dell'amore materno, la precipitava nell'investigabile abisso del più acerbo dolore. Se la Vergine si compiaceva nel contemplare quel vuoto leggiadro, la conturbava il desolante pensiero che un giorno quel volto sarebbe stato sformato dalle percosse e ricoperto dal gelido sudore della morte. Se ne mirava la fronte divina su cui si divideva la bionda capigliatura, Maria soffriva pensando all'orribile certo da cui sarebbe stata un giorno incoronata. Questi sentimenti dolorosi si tramutarono in realtà quando giunse per Maria il momento solenne di assistere alla divina passione e tutto quello che ella sofferse sin qui. Altro non fu che la preparazione del martirio che l'attendeva sull'erta fatale del Golgota. Quando Gesù morì la terra tremò, si spaccarono le pietre e cominciarono ad azzenzarsi le tenebre sul creato. L'adoratissima madre accolse più tardi sulle sue ginocchia le spoglie dell'adorato figliuolo. Beata Vergine, Maria Addolorata, ricordata il 15 settembre dalla Chiesa Cattolica. Noi apriamo la nostra consueta rassegna stampa, come sempre con le prime pagine dei giornali. Partiamo dall'edizione di Pescara del quotidiano Il Centro d'Abruzzo, che apre a tutta pagina sull'omicidio accaduto domenica a Penne. Vedete il titolo proprio a tutta pagina. L'anziano ucciso a pugni in faccia, omicidio di Penne. Il tossicodipendente è arrestato, nega tutto. E poi la fotonotizia che è dedicata al primo giorno di scuola, ieri nella nostra regione. Primo suono della campanella. Anche per un professore, che vedete nella foto piccola, di 62 anni. Poi nelle cronache, a Chieti la tragedia è trovato morto nell'abitazione tecnico 35enne. Poi si parla del porto turistico, il marino Marina di Pescara. Sul bilancio pesano le tasse, poi il calcio. Parla Campagnaro, difensore 35enne Biancazzurro, ancora in attesa dell'esordio con la maglia del Pescara. Dice, il mio Pescara sarà rock. E poi ancora cronaca, in questo caso da Montesilvano. Madre mette in fuga il ladro. La donna tira colpi di karate. Per fortuna, non ho fatto danza, ha raccontato anche un po' scherzosamente. Lasciamo allora la prima pagina del centro. Edizione di Pescara. Tra qualche istante andremo a vedere un'altra edizione del quotidiano d'Abruzzo. In questo caso l'edizione di Chieti Lanciano Vasto. Per vedere anche in questo caso quali sono i titoli di prima pagina. Proprio nell'edizione teatina del centro. E si parla del rogo in tribunale a Chieti. Fascicoli bruciati, incendio all'alba nella cancelleria penale. L'allarme non suona. E poi vedete la festa in piazza dei ragazzi del Vico. Per salutare il ritorno in classe, il liceo classico Gian Battista Vico di Chieti. E il professore passa di ruolo a 62 anni. Abbiamo visto prima la sua foto. L'insegnante di Bucchianico ha una cattedra a Pescara. E poi le cronache. Ritroviamo questa tragedia di questo tecnico 35enne trovato privo di vita nella sua casa a Guardia Grele. E poi la notizia sull'omicidio di Penne. Poi tornando sempre, restando sempre in provincia di Chieti a Lanciano. In particolare Allegrino, guai per alimenti non genuini. Ancora avanti, una nuova edizione del centro. In questo caso, tra poco vedremo i titoli della prima pagina del quotidiano d'Abruzzo nell'edizione di Teramo. Tra l'altro quella di ieri è stata una giornata importante anche per le vicende calcistiche biancorose. Parliamo proprio del Teramo perché c'è stata una conferenza stampa del patron Campitelli. E vedete che il titolo principale non poteva che essere proprio quello relativo alle parole del massimo dirigente biancorosso. Pronto a cedere subito il patron del Teramo dice voglio la piazza tutta con me, altrimenti mollo. Poi vi preannuncio che nella seconda parte di mattino 6 ascolteremo proprio le dichiarazioni del patron Campitelli nel corso della conferenza stampa di ieri. Scuole al via, lavori fatti e da fare e il pellegrinaggio dei docenti. La prima campanella, vedete il sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi, con alcuni bambini di una scuola elementare. E poi la vicenda della ragazza dilaniata, ricorderete, sull'autostrada 14, morte di Giulia, l'autopsia, non fuga i dubbi. E poi una disabile beffata, Giulia Nova stampante rotta, niente esenzione dal ticket. E poi a Teramo, rifiuti in casa per due giorni, scatta lo sciopero, la Teramo Ambiente, portatevi in strada lo stesso. Ieri tra l'altro vi abbiamo proposto un servizio della nostra Elisa Leuzzo, proprio sulla situazione della Teramo Ambiente con questi due giorni di sciopero programmati dai sindacati. Andiamo ancora avanti per chiudere con i titoli delle prime pagine del centro, con l'edizione di L'Aquila, Avezzano, Sulmona, per poi passare al messaggero e dare uno sguardo ai titoli di carattere nazionale. Vediamo la prima pagina del centro, edizione dell'Aquila, violentato a 12 anni dal vicino Aielli, bimbo ricoverato in ospedale, arrestato un uomo di 61 anni. E poi 6.000 studenti tornano sui banchi nelle scuole di Latta, primo giorno all'Aquila, primo giorno di scuola anche nel capoluogo regionale. E poi sempre l'Aquila, caso Cucchi, perizia affidata ad un professionista aquilano. E a Onna la chiesa attende l'inaugurazione, Pettorano sul Gizio, siamo in Valle Peligna, gara di moto nella riserva naturalistica. E poi Tagliacozzo, catalano si difende, mi aveva ferito con il martello. L'omicida dice, ho sparato, io ricorderete questa tragedia avvenuta qualche giorno fa a Tagliacozzo con l'omicidio di un 35enne. Allora lasciamo le prime pagine del centro, abbiamo visto i titoli delle prime pagine delle quattro edizioni, apriamo con il messaggero per vedere la prima pagina e poi andare a leggere insieme le pagine interne. Salta l'accordo, frontiere chiusa, si parla della vicenda migranti, battaglia nell'Unione Europea sulle quote, anche Olanda e Francia minacciano di blindare i confini, l'ira del governo, subito rinforzi al Brennero, intesa solo sulla prima fase, 24.000 via dall'Italia. Poi vedete questa foto corredata con la notizia, scambiati per terroristi ISIS, 12 turisti uccisi in Egitto, bombe missili mentre erano a cena. Poi si parla di economia, manovra con Taglia, la sanità, pili in crescita, scala il debito, Renzi misura per 27 miliardi dal 2017, tassa sui colossi web. E poi le proprietà del Vaticano, chiesa e imu evasi, 19 milioni a Roma, il Papa ora interviene, giusto pagare, dice il pontefice. Poi si torna sulla vicenda dei profughi, lo slalom della Merkel in casa nostra, questo il fondo, l'approfondimento del politologo Alessandro Campi. Allora andiamo avanti, vediamo le pagine interne del messaggero, pagina 2, migranti, Unione Europea divisa, spariscono le quote, frontiere blindate, Schengen a rischio, i paesi europei stabiliscono la ripartizione di 160.000 profughi, ma mancano i criteri, via in 24.000 dall'Italia. Poi vedete questa cartina con la situazione in Europa, in Germania 19.000, più i migranti arrivati nel weekend, in Ungheria oltre 5.000, tanti anche in Serbia, 6.000 in Macedonia, 10.256 in Austria. E proprio in Ungheria, Budapest, il muro è finito, ora l'arresto, Belgrado si prepara a schierare invece l'esercito. Pagina 3, ira italiana per la mancata intesa, pronti rinforzi per il Brennero dalle nuove procedure alle identificazioni, così Roma dovrà adeguarsi in tempi brevi, i migranti dovranno essere bloccati negli hotspot da allestire a spese dello Stato. E poi il pressing del partito sulla Merkel deve fare un discorso alla nazione, dunque anche in Germania non tutti sono d'accordo sulle politiche adottate dalla cancelliera. E siamo a pagina 4, scafisti, la stretta dell'Unione Europea, previsto l'uso della forza. Ok, alla fase 2 si potranno intercettare e distruggere i barconi dei trafficanti. L'operazione dovrebbe partire ad ottobre, Libia ora manca la risoluzione dell'ONU. Siamo a pagina 5, in Egitto uccisi 12 turisti, scambiati per jadaisti, per un tragico errore il raid Antisis, si trasforma in strage, bombardato un convoglio di fuoristrada nell'area di Al-Auat. Tra le vittime molti messicani, le loro guide una decina, i feriti, l'attacco è avvenuto con aerei da combattimento. Vedete nella cartina proprio la zona dove c'è stata questa tragedia con questi turisti. scambiati per jadaisti. E poi il caso Mosca fornisce carri armati ad Assad. Il Pentagono accusa la Russia ha inviato al regime di Damasco, dunque al regime siriano, soldati e mezzi militari altamente sofisticati. Proseguiamo pagina 6, siamo alla politica nazionale. Il presidente del Consiglio Matteo Renzi che dice al massimo farò due mandati e sul Senato rilancia la sfida a grasso. Il leader, se si cambia ancora il testo, il problema è del presidente Italicum. Attenzione con il nuovo centro-destra, Malotti avverte, nessuna modifica. E poi il Labur galvanizza la sinistra PD. D'Alema non cerco io la scissione. Parla ovviamente del successo dei laburisti con il nuovo leader in Gran Bretagna. E poi a fondo pagina Berlusconi annulla il vertice azzurro per vedere Mr. B, ovvero il suo socio nel Milan, calcio. Il Cavaliere sconvoca la riunione ad Arcore e preferisce tenersi le mani libere. Le mani libere poi da Brunetta appello agli alfaniani. Tornate, dunque continuano le grandi manovre nel centro-destra per una possibile riunione. Anche perché, come abbiamo visto, NCD su alcune questioni è sicuramente tutt'altro che d'accordo con Renzi e con il PD. Pagina 7, asse tra Premier Mattarella, riforme, perno della legislatura. Pranzo al Quirinale con il Presidente della Repubblica per fare il punto a 360 gradi, la preoccupazione del Colle per lo stallo. E poi Palazzo Chigi non intende aprire alcuna discussione prima della pronuncia sull'articolo 2. E poi in basso si parla del leader dei Cinque Stelle, Beppe Grillo, condanna ad un anno per diffamazione. Nel 2011 l'ex comico, in un comizio, si era scagliato contro un docente. Il web hanno paura che andiamo al governo. E i dati, i numeri dicono che il Movimento Cinque Stelle sarebbe in crescita, almeno questo dicono i sondaggi. Pagina 8, chiesa EU e IMU, evasi 19 milioni, solo a Roma. Il Papa dice si paghi. Il Campidoglio chiede gli arretrati a 233 strutture alberghiere di proprietà ecclesiastica. Il 62% degli immobili non è in regola. La svolta del Vaticano e il Papa dice si paghi. Pagina 9, manovra da 27 miliardi. Taglia la sanità, il Premier anticipa i numeri del DEF. Il PIL 2015 sale allo 0,9%. Congelato l'aumento di 3 miliardi del Fondo Sanitario Nazionale. Dal 2017 arriva la Google Tax. Preglievo del 25% sui pagamenti verso le web company per coprire anche l'abolizione della Tasi. E poi a centro pagina si parla di pensioni, il no di Padoan, niente flessibilità in uscita. In basso conti pubblici, cala il debito e aumentano le entrate. Ancora avanti, pagina 12, si parla di politica internazionale. In questo caso, proprio quello che dicevamo qualche istante fa, siamo in Gran Bretagna. La squadra di Corby, nemmeno una donna, nei posti che contano in neo-leader laburista, presenta il governo Ombra, la delega per l'economia assegnata a McDonald's. Ben rimane agli esteri. Vedete Jeremy Corby, il neo-eletto leader del partito laburista inglese, a cui si ispirerebbe la minoranza del PD. E poi torniamo a parlare di Berlusconi in Crimea, in questo caso la protesta di Kiev. E poi l'inchiesta Bossoli dello Sri Lanka assolverebbero i Marò. Pagina 13, si parla di scuole, scuole riaperte. Abbiamo visto anche nella nostra regione ieri il suono della prima campanella. In arrivo 55.000 professori in più negli istituti stricioni antiriforma, verso lo sciopero nazionale a ottobre. Il ministro Giannini, fra due mesi organici potenziati. E poi c'è la polemica del leader della Lega Salvini. Ci vuole un tetto alla presenza di alunni stranieri nelle classi. Ma la legge fissa già la soglia. Al 30%, tra le novità il registro elettronico, insegnanti in crisi in una classe, su tre lo compilano gli alunni. E dunque le nuove tecnologie non ancora ben digerite da molti insegnanti. Pagina 14, mafia capitale. Siamo a Roma, spunta anche un conto segreto. Nuovi traffici di Odevaine. Nell'inchiesta pure una segnalazione di Banca Italia sui conti dell'ex collaboratore di Alemanno. E Carminati minacciava, ti smonto tutto. E siamo alle pagine dell'economia. Da Auto, Stati Uniti, il sindacato tratta con Fiat Marchione, diserta sorpresa e salone di Francoforte per guidare la trattativa con il potente UOV per il rinnovo del contratto collettivo. Farà da apripista gli altri due giganti di Detroit, la Ford e General Motors, con l'obiettivo non secondario della fusione. con quest'ultima. E poi dalla Fiat alle elezioni in Grecia perché testa a testa tra Siriza e Nuova Democrazia. Domenica si torna a votare May Marcus a Tsipras, grande coalizione. L'ex premier replica non con voi. E poi in basso, tassi analisti divisi sulla decisione della Federal Reserve. Dunque a New York, negli Stati Uniti, cresce l'attesa anche se aumenta la percentuale degli scettici sulla stretta. Borse più nervose nella giornata di ieri. Poi si parla di banche, in questo caso nella seconda pagina dedicata all'economia. Vedete in basso, a proposito, Deutsche Bank vuole tagliare 25.000 posti. Questo articolo che arriva da Berlino e poi a pagina 17 si parla di aeroporti. Stretta su Milano-Bergamo, al via le trattative per la fusione tra Orio, Alserio, Malpensa e Linate. Il CDA da mandato ai presidenti. Il Polo Lombardo vale oltre 36 milioni di passeggeri nel 2014, ma per sé si parla di un bacino di 42 milioni di clienti. Dunque, prima di andare a vedere le pagine locali, prima di concentrarci anche sul, in questo caso sul meteo, per parlare con il nostro Giovanni De Palma, delle previsioni che ci attendono per le prossime ore e i prossimi giorni. Vediamo anche le pagine nazionali del centro. Anche in questo caso si parla della questione migranti. Vedete questa doppia pagina, questa pagina passante, Unione Europea verso l'accordo, missione antiscafisti, ok il ricollocamento di 40.000 rifugiati. C'è l'intesa sugli altri 120.000, ancora attenzioni sulle quote, nella bozza spunta l'ipotesi della flessibilità. Pagina 3, frontiere sotto assedio, Budapest completa il muro tra Ungheria e Serbia, e sotto, vedete, Berlino, fronteggia l'invasione. Siamo a pagina 4, si parla di politica interna, dei nodi del governo, Renzi manovra da 27 miliardi, PIL allo 0,9%, in questo caso in crescita, di quasi l'1%. Il Premier assicura due legislature, lascio sul volo negli Stati Uniti, polemica populista e sulle riforme. Sfida grasso, ricorderete la polemica per il viaggio con l'aereo di Stato di Renzi negli Stati Uniti per seguire la finale tutta italiana del torneo internazionale di tennis tra la Vinci e la Pennetta. Poi si parla ancora, si torna anche sul centro, a parlare delle tasse che dovrebbero pagare anche gli enti cattolici, in questo caso il Papa dice paghi le tasse, il convento hotel, svolta di Bergoglio sull'Ici, se guadagni denaro, giuste le imposte, altrimenti business non pulito. E poi in basso ritroviamo la notizia che abbiamo visto anche sul messaggero, diffamazione, condannato Grillo, minacciò un professore, il leader del Movimento 5 Stelle dice io in carcere come Pertini e Mandela. E siamo a pagina 5 del quotidiano Il Centro, si parla di scuola, Giannini ottimista ma si prepara alla protesta, 9 milioni di studenti tornano in aula, il ministro evitato il solito inizio caos, a ottobre si mobilitano i sindacati, Salvini serve un tetto per i bimbi stranieri. E poi caso Cucchi, il caso del giovane morto a Roma qualche anno fa dopo l'arresto, caso Cucchi, perizia aquilana, tenta di far luce sulla morte, il professor Carlo Masciocchi sarà infatti il consulente della famiglia, vedete il professor Masciocchi nella foto. E prima di passare alle pagine regionali del centro e poi del messaggero, l'ultima pagina di cronaca nazionale riguarda il maltempo nel nord Italia, un morto e due dispersi nel Piacentino, la vittima è una guardia giurata, padre e figlio scomparsi in auto, nubi fragi e trombe d'aria in Liguria, frana a Cortina, l'Emilia Romagna in ginocchio, la regione stanzia a due milioni di euro e chiede lo stato di emergenza, Bersani dice nei miei paesi è arrivato il disastro, bisogna ripristinare i servizi e poi subito ricostruire. Allora, siamo arrivati alle pagine regionali dei nostri quotidiani, ma alle 7 e 21, apriamo come di consueto, come ogni mattina, nel corso di mattino 6, la pagina riservata al meteo, lo facciamo come sempre con il nostro Giovanni De Palma che vado a salutare. Giovanni, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Paolo, buongiorno a te e a tutti e a tutti gli spettatori. Questa mattina una voce più squillante che mai, sarà forse per questo caldo che è tornato Giovanni impetuoso a investire la nostra regione, correggimi se sbaglio, ieri a Pescara c'erano oltre 30 gradi a metà giornata, vento caldo, garbino, insomma, che cosa sta succedendo? Esatto Paolo, c'erano 33 gradi, ne abbiamo parlato anche io te personalmente, ti ricordi, quando eravamo allo stato di questa eventualità, di questo ritorno del garbino, del garbino che avrebbe portato favorito temperature sì elevate, ma ovviamente non persistenti. una situazione questa che continuerà a manifestarsi anche nelle prossime ore ma addirittura tra giovedì e venerdì è previsto un'ulteriore intensificazione del flusso di correnti di questo flusso di correnti meridionali provenienti dall'entroterra algerino favorita dall'azione di una vasta circolazione depressionaria in azione sull'Europa occidentale. Questa circolazione depressionaria spingerà, favorirà la risalita di queste masse d'aria molto calda provenienti dall'Africa nord-occidentale che raggiungeranno le nostre regioni centro-meridionali quindi anche l'Abruzzo sarà interessata ancora una volta da questo flusso di correnti sud-occidentali che da noi si cadurrà non solo in annuvolamenti ma anche in una nuova intensificazione dei venti provenienti dai quadranti sud-occidentali il nostro anno garbino che soffierà impetuoso sulle zone montuose e sul versante orientale e proprio sul versante orientale è lecito aspettarsi valori molto elevati tra giovedì e venerdì con punte massime che potrebbero raggiungere anche i 36-38 gradi anche lungo la fascia costiera questa è una caratteristica proprio del garbino che permette appunto alle temperature di salire in maniera molto elevata un'altra caratteristica tra la diminuzione dei tassi di unità non sarà un caldo a poco sarà un caldo torrido quello in arrivo però ripeto temporaneo perché poi cesserà l'effetto l'azione di questa vasta circolazione depressionaria attualmente posizionata sull'Europa occidentale e quindi di conseguenza avremo non solo un'attenuazione nel caldo ma con tutta probabilità anche un peggioramento delle condizioni atmosferiche nel fine settimana tra sabato e domenica perché arriveranno delle mazze d'aria più fresca e umida di origine atlantica però ciò darà luogo con tutta probabilità Paolo a dei fenomeni temporaleschi anche di forte intensità e anche sulla nostra regione perché questa perturbazione raggiungerà e attraverserà gran parte delle nostre regioni si tratta ovviamente poi di una situazione da analizzare e confermare nel corso dei prossimi giorni Paolo abbiamo visto Giovanni proprio stavamo leggendo dei nostri giornali proprio di questa ondata di maltempo nel nord Italia il centro l'Abruzzo in particolare è risparmiato da questo brutto tempo però come ci stai dicendo tu probabilmente arriveranno le piogge proprio a fine settimana anche in Abruzzo esatto Paolo esatto da segnalare quindi l'eventualità anche di fenomeni piuttosto intensi non escludo grandi nate già da oggi ossermando gli ultimi aggiornamenti perché ripeto il contrasto tra le masse d'aria sarà notevole già ieri in Veneto ci sono stati forti temporali ieri nubi fragi in Liguria e sulla penura padana e quindi insomma una situazione questa che potrebbe comunque dare produrre dei fenomeni anche di una certa consistenza sulla nostra regione però nel fine settimana fino ad allora comunque non ci saranno problemi la caratteristica principale di questa situazione meteorologica fino a venerdì sera sarà non solo il vento forte proveniente dal sud ovest quindi il libeccio il gardino dalle nostre parti ma anche un ulteriore sensibile aumento delle temperature tant'è parlo che stanotte a mezzanotte c'erano 28 gradi di riva al mare poi la temperatura è ulteriormente aumentata complice il vento impetuoso sud occidentale fino in quasi a 30 gradi di notte quindi questa sembrano valori incredibili ma il gardino può favorire questo tipo di aumento anche di notte Paolo bene grazie grazie a Giovanni De Palma per questo quadro davvero esaustivo della situazione con questo caldo sicuramente oltre le diciamo le previsioni soprattutto oltre le temperature medie del periodo io ringrazio Giovanni De Palma che ritroveremo come sempre domani nel corso di Mattino 6 grazie Giovanni e buon lavoro grazie Paolo a questo punto colgo l'occasione per augurarti una buona giornata così come l'agulo a tutti i telespettatori di Timo 6 grazie grazie a Giovanni De Palma che ritroveremo domani ma per saperne di più ci sono sempre i soliti strumenti il sito www.abruzzometeo.org diretto dal nostro Giovanni De Palma uno strumento proprio indispensabile per restare aggiornati sulle previsioni del tempo e poi c'è la pagina Facebook altro strumento importante anche per interagire con il nostro meteorologo deve essere informati 24 ore su 24 proprio sull'evoluzione meteo in questo caso nella nostra regione come abbiamo ascoltato farà molto caldo se non caldissimo nelle prossime ore in Abruzzo con temperature quasi tropicali chiudiamo la pagina relativa al meteo allora prima di fermarci per qualche istante andiamo a vedere la prima pagina d'Abruzzo del centro si parla di fondi europei 23 milioni a ricerca automotive ne ha parlato il vicepresidente della regione Abruzzo Giovanni Lolli che noi andiamo ad ascoltare in questo servizio pieno di sviluppo e coesione fondi europei diretti alle imprese grandi medie e soprattutto micro le più numerose Giovanni Lolli traccia un resoconto dei fondi POR e FSC del 2007-2013 e annuncia l'arrivo di nuovi stanziamenti per l'Abruzzo sono un contratto di sviluppo cioè il bando è già aperto rimarrà aperto fino a settembre ma abbiamo già deciso di prolungarlo fino a tutto ottobre le imprese possono partecipare facendo un investimento minimo di 2 milioni di euro e sulla base di questo investimento di 2 milioni di euro possono avere naturalmente poi sostenuto da parte della regione fino al 50% per quanto riguarda la quota ricerca fino al 50% per quanto riguarda la quota diciamo di risparmio energetico e poi a seconda della loro dimensione anche delle quote relative alle spese di carattere più generali delle attività industriali poi c'è un contratto di ricerca dedicato anche questo espressamente all'automotive un milione minimo di investimento e la ricerca è finanziabile fino al 50% come è noto sono in particolare indicate le ricerche svolte non solo da singole imprese ma anche da reti di imprese soprattutto quelle collegate con il sistema universitario e dei centri di ricerca per la prima volta in Italia noi rompiamo un tabù e stabiliamo che è finanziabile anche ricerca che si svolga fuori dall'Abruzzo purché le ricadute di questa attività siano ricadute indicabili come nella nostra regione è una scelta coraggiosa e forte poi c'è un contratto di sviluppo per tutti gli altri che non sono automotive automotive come punto fermo trattandosi del comparto più produttivo dell'intera regione poi un occhio a chi vuole fare impresa giovani e meno giovani che avranno l'opportunità di ottenere il rimborso per il 50% dei propri investimenti uno è un rifinanziamento ne abbiamo già fatto per 4 milioni e lo faremo per altri due alla linea start up start up è una linea gestita da Fira ed è una linea che va incontro alle nuove imprese ma poi facciamo un altro strumento e cioè cerchiamo di dare un sollievo anche alle piccole imprese che esistono e in dei minimi sotto la soglia di 200 mila euro noi gli faremo un bando che accetta le spese che le piccole imprese abruzzese hanno fatto a partire da gennaio 2014 fino a ottobre di quest'anno le spese che hanno fatto per cosiddette innovazioni dove per innovazioni si intende ovviamente anche innovazioni di processo quindi uno che ha acquistato una macchina e che può testimoniare che questa macchina gli fa migliorare le sue attività o che ha preso un consulente queste le parole del vicepresidente della regione Giovanni Lolli noi ci fermiamo come detto per qualche istante poi torneremo in studio per la seconda parte di mattino 6 seconda parte di mattino 6 siamo alle pagine d'Abruzzo del messaggero la prima pagina si apre con la notizia di cronaca l'omicidio del pensionato di Penne il killer incastrato dal video ricostruita dagli investigatori la rapina finita in tragedia a Penne due fotogrammi le testimonianze dei vicini inguaiano il tossico e poi San Pietro quasi pronta la Germania applaude il sottosegretario di Stato Holder a Onna ma intorno alla chiesa non ci sono cantieri e poi fondo gamma e le case popolari fantasma l'ultimo intrigo post sisma sempre all'Aquila la seconda pagina si parla di politica regionale vedete il titolo di apertura regione rimpasto delle sovrapposizioni subito alla prova dell'ISA e poi il nuovo centrodestra la senatrice Chiavaroli non collaboro con D'Alfonso cerco di dare una mano alla mia terra e poi in basso vedete Prodi delusissimo dalla politica tedesca ieri a Pescara Prodi ospite dell'Aurum per parlare di Europa e futuro noi siamo andati ieri ad ascoltare le parole dell'ex presidente del Consiglio Prodi vediamo cosa ha detto a Pescara per parlare di Europa in un momento dove si parla di difficoltà di occupazione e dove ci sono delle difficoltà lei a luglio diceva l'Europa verrà salvata dalla Cina e dagli Stati Uniti ma adesso anche la Cina c'ha dei problemi quindi l'Europa si deve salvare da sola adesso è un periodo drammatico non si sa bene come andrà a finire le ultime settimane sono state pieni di sorprese perché prima una chiusura completa poi questo improvviso cambiamento tedesco oggi di nuovo una Germania ritornata prudente questo cosa vuol dire? vuol dire che non c'è una politica europea vuol dire che si vive la giornata e quindi difficilissimo fare previsioni su quello che capita in futuro lei era un sostenitore dell'Europa è deluso dalla Germania? sono stato delusissimo per tutta la politica economica di questi anni perché non hanno capito che bisognava aiutare la ripresa come avevano fatto gli americani e i cinesi e hanno accumulato questo grande surplus della bilancia dei pagamenti invece di investire hanno accumulato 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 quindi non sono stato contento della politica tedesca il colpo improvviso della Merkel mi ha stupito favorevolmente adesso questa specie di marcia indietro degli ultimi giorni da un lato la capisco anche perché l'ondata era diventata un'ondata di emigranti inarrestabile dall'altro lato però è una marcia indietro il partito democratico in questo momento vive una difficoltà secondo lei non parlo di cose di politiche interne come dico sempre bisogna lasciare non disturbare il conducente queste le parole dell'ex presidente del consiglio romano prodi che ha preferito non parlare delle vicende politiche del suo partito proprio il partito democratico che vive di continue fibrillazioni al suo interno allora siamo alle pagine provinciali dei nostri quotidiani partiamo da Pescara per vedere le prime pagine ovviamente l'apertura è dedicata ancora una volta all'omicidio di penne l'anziano ammazzato con una scarica di pugni autopsia di 5 ore l'ex maresciallo picchiato brutalmente accoltellato ma il tossicodipendente arrestato nega tutto e dice sono innocente vedete poi nell'altra pagina la foto dell'anziano ammazzato segnato dalla solitudine una persona buona e poi in basso il presunto omicida allevatore di pitbull alle prese con la droga poi questo titolo che è in basso il RIS nella casa per cercare le tracce dell'assassino perché sono arrivati ieri da Roma appenne proprio i carabinieri del RIS per trovare ulteriori tracce e prove sulla colpevolezza del 36enne che è stato arrestato dai carabinieri poche ore dopo questo terribile fatto accaduto in un'abitazione del centro storico di Penne andiamo avanti si parla di scuola nella pagina 18 del centro il misticoni è sovraffollato il coreudico fa le valigie 100 studenti del liceo si trasferiscono da Viale Kennedy a Via Passo Lanciano la preside Consolazio dice la provincia ora dia spazio anche alle classi di musica e poi ancora Pescara banda di bulli gli arrestati non parlano sull'anziano morto proprio sulla vicenda che abbiamo visto pochi secondi fa lite tra Cerolini e Diodati e poi tornando alla scuola trucchi e magie il primo giorno di scuola istituto comprensivo 6 si parla anche di questa novità e la riforma della scuola prof di ruolo a 62 anni una vita da precario nel 2019 in pensione ancora scuola e c'è chi torna in Abruzzo dopo 30 anni in Sicilia e poi in basso il Noa Renzi da classico Galilei Ipsar proteste e stricioni nei due licei all'alberghiero al Via dell'Anno ottobre gli istituti in assemblea andiamo avanti si parla ancora dalle pagine del centro di Pescara in questo caso di economia di aziende 40 anni della fameccanica festa con 500 dipendenti pagina 21 buchi al porto turistico no ma pesano le tasse l'amministrazione del Marina di Pescara replica le accuse su presunte anomalie nei conti l'imio è raddoppiata e l'imposta sui rifiuti è quadruplicata ma è tutto sotto controllo e poi politica noi con Salvini raccolte 230 firme contro il sindaco di Pescara Marco Alessandrini ancora avanti siamo alla pagina dell'Interland di Pescara in questo caso a Francavilla dove si parla dello stadio del mare al foro Via Libera dalla Giunta e poi l'arte orafa di Landolfo a Expo e siamo alla pagina di Montesilvano ritroviamo un titolo di cronaca che abbiamo visto anche nella prima pagina dell'edizione del centro madre scaccia un ladro a colpi di karate svegligliata nel cuore della notte dei rumori in casa sorprende il malvivente alle spalle lo stende poi lo costringe a fuggire politica la proposta Movimento 5 Stelle più raccolta differenziata con gli ecocompattatori e poi sempre a Montesilvano opere antisismiche nelle scuole proseguiamo ancora siamo in provincia di Pescara sempre a Montesilvano bollettini tari in arrivo nelle case di 26.000 utenti e poi a Montesilvano questa sera c'è un'importante iniziativa i malati di Linfoma si raccontano con l'InfoVita appuntamento nel pomeriggio e al Serena Majestic Festival con 180 percussionisti provenienti da tutto il mondo a Spoltore dunque siamo dall'altra parte dell'Interland di Pescara nella zona ovest della nostra della provincia di Pescara appunto via Prati e altre 22 strade lavori per 700.000 euro cantieri aperti a Spoltore proseguiamo siamo alla pagina di Penne Popoli dell'Alta Val Pescara rischio e sondazione per la portata idrica del fiume Giardini Giardino scusate Popoli rilevato un aumento d'acqua alla sorgente del Morrone mai registrato negli ultimi decenni e dire che nell'ultima estate estate che si è praticamente conclusa è piovuto davvero molto poco a dall'anno il centrodestra attacca Bracco sul convitto Itas e poi invece una notizia felice per una cercatrice di funghi che si era persa nelle montagne del Pescarese nella zona di Rigopiano è stata ritrovata dai cani molecolari donna persa nel bosco di Rigopiano la zona perlustrata tutta la notte dai soccorritori e siamo alla pagina di Chieti del centro anche qui ritroviamo un titolo che avevamo visto in prima pagina paura a Palazzo di Giustizia proprio a Chieti fuoco in tribunale e l'allarme non scatta fiamme si sprigionano all'alba nella cancelleria penale distruggono decine di fascicoli i vigili provocati da un cortocircuito vedete nelle foto alcune zone alcuni locali del tribunale con i segni proprio dell'incendio e poi questa notizia che arriva da Guardiagrele trovato morto in casa tecnico di 35 anni tragedia Guardiagrele dipendente della Galeno di Ortona non si era presentato al lavoro siamo alla pagina di Lanciano del centro il caso Mozzarelle indagini della forestale alimenti non genuini guai per Allegrino la procura di Campobasso chiede il processo per l'imprenditore Frentano accusato anche di associazione a delinquere e poi la Sasi in procura depuratori sotto sequestro presentata la relazione bis e a San Vito e soprattutto nella zona a sud proprio dell'area Frentana acque pulite a Rocca e Fossa Cesia due punti critici a San Vito invece sud di Fosso Cintoni e nord del Feltrino e poi a Civitella Messer Raimondo siamo in sempre nel Chietino questa volta nell'Alto Vastese famiglia la quinta generazione Civitella Lavinia è l'ultima nata la mamma Michela quando ci riuniamo è festa vedete questa bella foto con queste cinque generazioni della famiglia che vive a Civitella Messer Raimondo siamo alla pagina dell'Aquila del centro violentato a 12 anni dal vicino di casa siamo nella marsica shock sequestrati gli abiti per le analisi in carcere un 61enne di Aielli gli abusi sessuali sarebbero avvenuti in garage il ragazzino ricoverato in ospedale e poi ad Avezzano casa di riposo inagibile 37 non sfrattati e per quanto riguarda l'orchestra sinfonica abruzzese oggi è il giorno decisivo all'emiciclo all'esame delle commissioni il progetto di legge per il via libera al contributo da 800 mila euro siamo ancora alle pagine dell'Aquila e provincia sul centro mi ha dato una martellata ho sparato per difendermi il delitto di Tagliacozzo Catalano confessa la lite col butta fuori e dice non volevo uccidere il 47enne scaggione ai presunti complici romeni oggi a Roma i funerali di Callegari e poi siamo ancora ad Avezzano consorzio di bonifica stop dal Tar a Pettorano in Valle Peligna gara di moto nell'Oasi è polemica e poi tornando ad Avezzano la CGL caporalato più che reale si parla di agricoltura e di questa problematica molto sentita in questi ultimi tempi siamo alle pagine di Teramo e provincia del centro Teramo Ambiente lo sciopero si fa due giorni senza raccolta l'accordo che pareva raggiunto salta per un contrasto sui turni di servizio Brucchi dice sono sbigottito l'amministratore delegato Ranalli portate lo stesso il pattume in strada e poi multe in ZTL pochissime le richieste in autotutela fallimento di esse il caso alla gabbia e poi la ragazza dilaniata sulla 14 l'autopsia non dà certezze Tortoreto ha eseguito l'esame sui resti della 19enne precipitata da Cavalcavia impossibile stabilire le cause della morte risposte parziali dagli esami fra due mesi e poi si parla ancora di in questo caso di arte della Monica e Pagliaccetti all'Expo Sgarbi visita monumenti e pinacoteca dove sceglie quattro tele e una scultura e poi lo svincolo lo svincolo della rampa per la 24 si farà i costi sono tutti coperti lo ha detto il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi prima di passare alle pagine dello sport andiamo a vedere il messaggero e poi anche la città il quotidiano la città di Teramo messaggero pagina dell'Aquila il fondo gamma le case popolari mai viste c'erano a disposizione 20 milioni di soldi pubblici per ricavare alloggi sociali ma ora punta un palazzo restaurato del Corso e poi ancora ricostruzione pronti 200 milioni per il nuovo elenco e Nicolle Maggio non c'è però ancora la ditta e poi si parla di cronaca giudiziaria Santa Riga i motivi della soluzione e l'inchiesta red razionem obbligo di firma Tancredi ricorre in Cassazione seconda pagina dell'Aquila buonimenza caos code e polemiche situazione critica in comune nel primo giorno di scuola gran folla negli uffici per ritirare i tagliandi alcuni dicono una vergogna e poi si parla di viabilità variante sud i sindaci propongono l'attraversamento dell'area artigianale e poi sempre all'Aquila Sharper torna la notte dei ricercatori un cartellone di iniziative per una scienza intrigante semplice e divertente e poi le cronache che arrivano da Vezzano e Surmono una violenza sul ragazzino pedofilo arrestato abbiamo visto anche questa notizia sul centro l'episodio si è verificato in un centro della Marsica si tratta di un muratore vicino di casa della vittima che non è italiana e poi a Surmona da pronti per cambiare un siluro contro Petrella l'obiettivo è quello di togliere il presidente della sacca dalla poltrona sempre a Surmona telecamere imballate da due anni e il delitto di Tagliacozzo Catalano ora punta sulla legittima difesa siamo alle pagine di Pescara del Messaggero primo giorno di scuola in questo caso oggi il secondo anche in Abruzzo dalle materne al liceo tutti tra i banchi che festa al classico dal dececco ad Alanno caccia a 5 milioni e mezzo per le manutenzioni e poi finisce al tribunale delle imprese lo scontro invece per la banca di credito cooperativa la cordata guidata da Daniele Sebastiani tenta di annullare la conferma di Borgia al vertice la replica ricorso infondato dice il presidente Michele Borgia poi vedete pagina 41 la vicenda del pensionato ucciso a penne due fotogrammi contro il killer del maresciallo in pensione andiamo a vedere il servizio che abbiamo realizzato su questa vicenda ieri c'è stata la conferenza stampa dei carabinieri presso il comando provinciale di Pescara sono state le immagini delle telecamere e di videosorveglianza ad incastrare il presunto assassino di Gabriele Giammarino 80 anni sotto ufficiale dell'aeronautica militare a riposo rinvenuto ieri mattina privo di vita nella sua casa con ferite da arma da taglio si tratta del 36enne Mirko Giancaterino tossicodipendente già con precedenti di polizia il giovane era stato anche indagato quasi 20 anni fa per omicidio in conseguenza di altro delitto per aver spacciato una dose di droga ad una ragazza poi deceduta il presunto omicida fuggito dopo l'efferato delitto di penne è stato rintracciato dai carabinieri che lo hanno sottoposto a fermo interrogato per alcune ore prima di arrestarlo adesso però prima di essere certi finiamo tutti i nostri accertamenti stiamo aspettando l'intervento del RIS che ci darà una grossa mano sul sopralluogo però gli elementi che per il momento abbiamo raccolto telecamere testimonianze riconducono a lui ovviamente ieri pomeriggio c'è stato anche l'interrogatorio da parte del PM di turno si è avvalto della facoltà di non rispondere adesso aspetteremo l'esame autoptico da parte del medico legale e gli ulteriori accertamenti che proseguono perché non è finita ancora l'anziano che viveva solo e non era sposato era stato rinvenuto ieri privo di vita nella sua casa di via Castiglione nel centro storico parzialmente ingendiato e sembrava fosse deceduto per il rogo e invece un'analisi più accurata sul corpo ha permesso di verificare ferite di arma da taglio compatibili con un'azione violenta l'incendio era servito per depistare le indagini c'è stato anche un aiuto da parte dei residenti della palazzina dove vive l'anziano? devo dire che c'è stata grande collaborazione da parte della popolazione degli esercenti che ci hanno messo subito a disposizione la visione dei filmati noi siamo partiti da quello dalla visione del filmato della telecamera e dalle testimonianze degli abitanti della palazzina in cui hanno detto che c'era stato grande movimento grande rumore televisore a tutto volume e coincide con l'orario di passaggio del soggetto all'andata e al ritorno ancora cronaca di Pescara urologia e chirurgia gli infermieri contestano la fusione con l'accorpamento dei reparti l'assistenza è a rischio dicono da Mario sono hanno scelte sempre più frequenti ancora da Pescara e provincia in questo caso siamo in Val Pescara bussi dall'addio a Pino Greco il cantore del paese fabbrica e poi cronaca giudiziaria scena muta dei minorenni terribili ricorderete la vicenda dei minorenni arrestati e denunciati per alcune aggressioni compiute nel centro di Pescara non rispondono al GIP il capo di 17 anni e il più piccolo del branco appena 14 anni siamo a Chieti rogo in tribunale si blocca la macchina della giustizia questura e vigili salvi con una sola prefettura si parla ancora della possibile fusione delle prefetture di Chieti e Pescara e poi primo giorno di scuola ingresso da film al classico Vico di Chieti poi case di riposo la ricetta dell'UGL poteri ad un commissario pagina di Lanciano Vastortona il trabocco di D'Annunzio torna in vita 14 mesi dopo la distruzione a causa del mattempo il Turchino è stato ricostruito e sarà fissato ad una piattaforma Vasto via Adriatica sette azioni del FAI per valorizzare terme e percorso anno scolastico ecco le prime grane a Vasto la materna di Pigliarelli deve emigrare ad Ortona ad Ottavio al Toto Assessore le spine dell'asilo Gramsci pagina di Teramo scuole via alla derattizzazione a tappeto poi Teramo Ambiente lo sciopero è confermato e abbiamo visto proprio nel corso del TG6 di ieri il servizio della nostra Elisa Leuzio con l'intervista ad alcuni sindacalisti proprio che hanno parlato della vicenda della Teramo Ambiente siamo alla pagina di Giulianova Roseto Valvibrata il prefetto blocca lo sfratto di una famiglia Rom siamo a Giulianova i carabinieri non intervengono per mancanza di autorizzazione e l'inquilino che è un altro immobile di 11 bani resta dov'è a Tortoreto ragazza dilaniata l'autopsia non chiarisce le cause sempre a Giulianova cambia volto il parcheggio davanti alla chiesa a Pineto scampati dal sisma tornano in Nepal Sara Pavone il suo compagno lo avevano promesso questa ragazza che vedete nella foto con il suo compagno l'avevamo ascoltata proprio qualche mese fa nel corso del nostro telegiornale proprio al ritorno in Nepal aveva detto che sarebbe tornata in quel paese e così è stato Valvibrata prima campanella con tante novità e a Giulianova a Pagliaccetti gli alunni trovano chiuso il cancello siamo arrivati alle pagine dello sport ma dobbiamo andare a vedere invece le notizie che riguardano il quotidiano la città di Teramo partiamo dalla prima pagina Campitelli cerca sostegno nuovo show del patron chi non mi vuole parli adesso o taccia per sempre andiamo avanti pagina 3 si parla di giunta bis tra deleghe e accentramenti sono state affidate le deleghe per la nuova giunta vediamo in questo specchietto Luciano D'Alfonso presidente Giovanni Lolli vicepresidente Donato Di Matteo assessore ai lavori pubblici urbanistica parchi e riserve emigranti progetti territoriali Andrea Gerosolimo il neoassessore lavoro e formazione associazionismo aree interne grandi eventi Silvio Paolucci assessore alla programmazione economica e sanitaria legge di stabilità politiche dello sport Dino Pepe agricoltura caccia e pesca economia del mare cicloturismo contratti di fiume demanio marittimo Marinella sclocco politiche sociali pari opportunità terzo settore politiche giovanili beni e cultura Mario Mazzocca sottosegretario con le deleghe alla protezione civile ambiente servizio idrico cave e torbiere assistenza ai comuni proseguiamo pagina 4 nuovo show del patron chi non vuole campitelli parli adesso o taccia per sempre ieri la conferenza stampa proprio del patron bianco rosso che andiamo ad ascoltare nel prossimo servizio qui per ripartire c'è il bisogno di tutta la città di tutta la gente di tutti i tifosi di tutte le istituzioni perché altrimenti un uomo solo dopo tutto questo immenso casino sicuramente non ha la stessa lucidità la stessa forza che aveva quando faceva o quando è iniziato questa storia in promozione oggi ci vuole la forza di tutta di tutta la città e quei messaggi li deputo poco corretti ma non tanto per me per la città stessa perché criticare una una storia di sette anni con dalla promozione siamo arrivati in serie B penso che non è successo in tutti i posti del mondo quindi vuol dire che se si critica questo vuol dire che non c'è la maturità giusta per poter fare calcio qui ma io siccome credo che qui c'è la maturità giusta e le persone giuste e le persone attaccate corrette non gli mancano niente credo che quella piccola parte porzione di quei ragazzi che forse noi loro li vogliamo insieme a noi perché abbiamo bisogno anche di loro perché noi abbiamo bisogno di tutti quindi non è una guerra verso nessuno penso che l'ho detto si è capito io parlo per un futuro grande del Teramo Calcio oltre non mi interessa proprio niente io sono preoccupato o meno io ti dico che il primo ricorso pensavo di uscirne fuori il secondo al mille e quindi oggi che sono preoccupato che facessero quello che reputano giusto fare non me ne frega proprio niente Presidente lei comunque rilancia perché ha annunciato amministratore Daniello direttore generale Scacchioli con parto tecnico delegato io ragazzi sono sempre due tre mesi prima faccio le cose poi adesso purtroppo non li ho potuti attuare però sono già tutti pronti quindi se la Teramo sportiva diventerà un pezzo importante dobbiamo essere la prima provincia che attua un'unione che tutti gli altri ci devono copiare parlava il padrone Campitelli delle nuove nomine vedete Scacchioli e Daniello ai vertici della dirigenza tecnica nella foto Daniello che è il nuovo amministratore delegato ancora avanti si parla del primo giorno di scuola pagina 6 della città noi lucidi forse le mamme preferivano la sosta selvaggia vedete questa foto pagina 7 un milione di euro di lavori per 50 plessi scolastici sempre a Teramo e poi scuole superiori premiati 200 studenti da 100 e lode Teramo Ambiente deciso lo sciopero a prescindere salta l'accordo tra sindacati e azienda oggi e domani organico ed indifferenziato restano in strada e poi una vicenda giudiziaria usura la procura va in appello contro la coppia di imprenditori depositato il ricorso contro l'assolusione disabili pronto il bando correttivo il comune va avanti per la sua strada per l'assistenza le famiglie teramane e poi Forza Italia senza la prefettura Teramo sarà una città fantasma anche a Teramo c'è fibrillazione per la notizia di un presunto possibile accorpamento con l'Aquila ancora avanti pagina 13 dal Braga l'ultimo appello dei docenti senza una sede un impegno di spesa dal 22 settembre l'istituto resterà senza maestri di musica l'8-0 lo svincolo della Gammarana sarà completato nessuna rampa fantasma pagina 14 con Di Sante Lanciotti si rischia la paralisi gli imprenditori dell'Api tornano alla carica sull'illegittimità delle nomine alla Camera di Commercio e poi l'accorpamento d'Alfonso Stoppa l'imminente fusione tra gli enti camerali di Pescara e Chieti a Sant'Atto agire per i contributi all'internazionalizzazione pagina 15 assalto di pubblico per l'inaugurazione del Bricofer e poi provincia Cirsu dimissioni dei sindaci atto dovuto ancora a polemiche per il fallimento le minoranze di Bellante e Mociano convocano un consiglio allargato e poi il concorso l'Università di Teramo vola a Bruxelles pagina della provincia acqua sporca dei rubinetti di montagna terra e ruggine per due settimane a Casale San Nicola scatta la denuncia per mancata ordinanza di divieto Val Vibrata usura bancaria oggi la sentenza sulla BCC Martinsicuro il buco da 3 milioni esiste e Camaioni a mentire si dice in questo articolo il Partito Democratico insiste sul riaccertamento obbligatorio appena eseguito poi pagine di Giulianova Mociano freccia bianca tutto l'anno a Giulianova il sindaco Mastromauro fa il bilancio della stagione estiva è detta le priorità niente slittamento le scuole riaprono il 28 settembre al Lido poi Roseto Pineto a Tressivi la scuola di Guardia Vomano resta aperta Pineto stoppa le aste a ribasso per le opere pubbliche Roseto la foce del Vomano invasa dai rifiuti Silvi guarda già al 2016 dopo i buoni dati sulla balneazione dell'ultima estate cultura nell'arte tutti matti per i folli questa iniziativa di Teramo con Vittorio Sgarbi torniamo a Centro e Messaggero per le pagine dello sport il Centro Musica e Muscoli Campagnaro sul palco il mio Pescara e Rock Lanciano Mammarella digiuno finito dopo otto mesi Campitelli Teramo di Casemivole abbiamo ascoltato proprio il patron Bensaia spiega la magia ci ho provato è andata bene parla il giocatore che ha regalato all'Aquila la vittoria ad Arezzo piccolo grande Giulianova Giorgini vola con i giovani entusiasmo dopo la vittoria con il Matelica eccellenza Orta la rinascita dopo l'inferno parla il bomber del Pineto chiudiamo con le pagine dello sport del messaggero Bari Pescara Profumo D.A. Carmine Gautieri doppio ex analizza la sfida del San Nicola l'assessore allo sport di Pescara Diodati parla dello stadio avrà almeno 20.000 posti stadio che verrà diciamo ristrutturato comunque adeguato con delle migliorie importanti Lanciano Leone dice con Ferrari siamo andati sul sicuro poi Lega Pro l'Aquila al comando ma deve migliorare Campitelli dice resto a Teramo solo se ci sarà unità Serie D San Nicola adesso serve una vittoria Giorgini Giulianova non montarti la testa Pomponi presidente del Chieti dice il Chieti può vincere il campionato e poi la secortona lancia la campagna abbonamenti siamo giunti al termine sono le 8 grazie per averci seguito mattino 6 torna ovviamente domani alle 7 in punto come sempre vi ricordo il nuovo appuntamento quotidiano con l'informazione alle 14 con la prima edizione del TG6 grazie e buon proseguimento di giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti